Buongiorno a tutti, sono sempre VictorLas88 Allora, prima di iniziare vi ricordo che sono attivi da qualche giorno qui sul canale degli abbonamenti trovate il pulsante per abbonarvi o comunque per vedere che cosa si offre negli abbonamenti a fianco al pulsante di iscrizione sia sul canale che sotto al video quindi se volete dare un'occhiata per capire quali sono i livelli di abbonamento e che cosa comporta, che cosa vi dà come vantaggio ciascun livello potete consultarlo cliccando sul pulsante con scritto abbonati e vi ricordo, visto che alcuni probabilmente non l'hanno capito che il fatto che abbia attivato gli abbonamenti sul canale non cambia assolutamente nulla dal punto di vista dei contenuti che vi porto sopra perché chi vuole il contenuto aggiuntivo a pagamento sottoscrive l'abbonamento chi non vuole o non può abbonarsi per qualunque motivo stia tranquillo che non cambierà ciò che caricherò qui come al solito gratuitamente come faccio da quasi 12 anni a questa parte è una cosa che aggiungo ma non vado a togliere assolutamente nulla vorrei essere chiaro su questo di colpa di iscrizione sotto il link che vi rimanda alla pagina principale alla home page di Pampling, www.pampling.com il sito dove trovate magliette, scarpe, felpe, zaini, calzini, un sacco di altri prodotti tutti a tema nerd e al momento c'è un'offerta su oltre 50 magliette ogni maglietta che rende questa offerta costa circa 10 euro e avete in omaggio un paio di calzini random se usate il mio codice sconto VILASLO avrete il 20% di sconto sulla maglietta quindi la pagate 8 euro con per l'appunto anche calzini in omaggio e ci sono anche le per l'appunto offerte 2x25 e 3x30 però con queste non potete usare il codice e per gli acquisti normali come sempre usate il codice VILASLO per avere il 20% di sconto a fronte di un acquisto inferiore ai 50 euro e il codice POWER25 per acquisti sui 50 euro che vi dà il 25% di sconto e vi ricordo anche che è stato recentemente attivato il nuovo mio canale telegram di offerte che si chiama Offerte Home Video and More by Victor Laso e ho trovato un sacco di offerte sia su home video quindi film, serie, blu-ray, DVD videogiochi oggetti dell'ambito tech quindi anche televisori, proiettori tutto riguardo per l'appunto la visione home video di film e serie tv e un sacco di altri prodotti interessanti quindi se vi interessa trovate il link in descrizione qui sotto ma allora, bando alle cianci iniziamo subito con il video di oggi allora si torna a parlare di come il cinema stia cambiando in relazione all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da diverse settimane ormai ho parlato di questo sia sul mio profilo Instagram sia sulla mia pagina Facebook che nel mio podcast trovate il link per dare un ascolto al podcast che trovate su Spotify in descrizione qui sotto è un paio di giorni che non pubblico ma solo perché non ho veramente avuto tempo adesso torno a pubblicare regolarmente e quello che tutti si chiedevano è se il sistema che stanno adottando alcune major ovvero quello di caricare sulle piattaforme di download digitale come Cili Raconte.tv e affini i film che sarebbero dovuti uscire in sala stia effettivamente funzionando perché questi film generalmente sono solo a noleggio e costano 15 euro e 99 che per molti è un prezzo non abbordabile ho parlato specificamente di questo e di come secondo me sia un prezzo tenuto conto di diversi fattori comunque inevitabile e non così alto come si potrebbe pensare se si va per l'appunto a pensare al fatto che quando lo metti su una piattaforma del genere online subito riescono a piratarlo a mettere un'altra qualità in streaming illegalmente e anche al fatto che se in quarantena si è in due o tre una famiglia un film basta che lo si scarica e si pagano 15,99 ma il download è uno solo quindi bisogna tenere conto di questi fattori non si può farlo pagare come un biglietto normale del cinema e non si sapevano però quali fossero i dati di vendita nessuno poteva dire se questo sistema stesse effettivamente funzionando oppure no ebbene circa due giorni fa sono arrivati i dati pubblici circa i film che finora sono stati caricati direttamente su queste piattaforme ricordiamolo sono Trolls World Tour Bloodshot Invisible Man Emma The Hunt insomma non sono pochi è una tendenza che si sta diffondendo neanche troppo lentamente e Trolls World Tour ha incassato 95 milioni di dollari è il seguito del film animazione Trolls di Universal e tra l'altro tanti pensavano che Trolls World Tour fosse un film legato a Troll 2 di Fragasso non ho capito per quale motivo però è così molti pensavano che fosse qualcosa del genere ma vabbè questa era giusto una goliardata che era divertente a raccontare e quindi pare che il CEO di Universal abbia detto che sono molto soddisfatti di questo risultato e che quindi in futuro anche quando sarà cessata l'emergenza sanitaria utilizzeranno questo sistema il che lascia pensare che vorrebbero non rispettare più la finestra di 90 giorni che intercorre tra il momento in cui viene tolto dalle sale un film e la sua uscita per appunto sulle piattaforme in blu-ray e quant'altro ecco questo non è piaciuto molto ai capoccia della catena di cinema AMC che già non aveva preso bene la scelta di Universal peraltro presa senza neanche consultarli di mettere direttamente su queste piattaforme online Tross World Tour e avevano già diverse settimane fa resa pubblica una lettera di protesta in cui dicevano chiaramente che AMC come gruppo non si sarebbe dimenticato della scelta presa da Universal adesso che è stato detto quello che vi ho appena spiegato e la risposta di AMC non è tardata ad arrivare e per l'appunto è stato detto che AMC non proietterà più nei loro oltre mille cinema i film di Universal e tenete presente che Universal distribuisce film come la saga di Jurassic World di Fast and Furious ma comunque anche quelle della Blue Mouse insomma tutti i franchise che al botteghino stanno andando molto bene se veramente questo dovesse accadere per l'Universal potrebbero prospettarsi in futuro tempi abbastanza duri poi si sono rimangiati quanto detto hanno spiegato ma no è semplicemente per dire che vorremmo utilizzare anche questo sistema ma non è che andiamo a infrangere in realtà la prima dichiarazione lasciava pensare proprio ad un cambiamento radicale almeno per quanto riguarda i prodotti Universal per quanto riguarda il rispetto della famosa finestra di almeno 90 giorni e il punto qual è? il punto è che io sono anni ragazzi fottutamente anni che continuo a ripetere che prima o poi nell'arco di 15-20 anni si sarebbe arrivati ad una quasi contemporaneità per non parlare magari di una totalità di una totale contemporaneità di messa dei film in sala e sulle piattaforme on demand o sulle piattaforme di streaming quando l'ho detto ah ma cosa dici ma figurati non succederà mai quello che sta succedendo ha accelerato un processo che a mio modesto parere era inevitabile e piuttosto chiaro se le major iniziassero a pensarla come Universal le cose cambierebbero parecchio ora il punto qual è Universal cioè il capoccio di Universal non possono prendere una decisione del genere senza consultare le sale non si può fare questa cosa è per questo che i MC si sono incazzati come delle bestie peraltro la catena è sul loro nel fallimento i cinema chissà quando riapriranno e questi dicono ma noi adesso faremo questa cosa anche meno insomma anche meno porca miseria quindi posso capire la rabbia dei dirigenti di MC e il punto qual è perché Universal è rimasta soddisfatta del risultato è rimasta soddisfatta del risultato perché il primo Trolls aveva incassato circa 156 milioni di dollari a Universal ne erano arrivati circa 75 milioni perché quando si parla di uscita di un film nelle sale le revenue gli incassi vengono divisi 50 e 50 tra la major e il cinema benissimo quando si parla di messa online sulle piattaforme come Cira Content TV Google Play quant'altro si parla di una divisione dell'80% che va alla major e del 20% che va invece a quel tipo di servizi significa che a fronte di un incasso nettamente inferiore ed è normale perché comunque un film messo direttamente online è difficile che possa incassare quanto un film che va nelle sale perché comunque la diffusione e il marketing è differente quindi ha incassato più o meno la stessa cifra che ha incassato con un film uscito nelle sale di visione 50 e 50 sicuramente meno problemi distributivi un sacco di gaboli in meno accordi amici accordi loro magari pensano beh noi il film lo facciamo uscire nelle sale poi magari dopo tre settimane un mese lo facciamo uscire on demand e ci picchiamo giù un sacco di altri soldi è quello di cui ho sempre parlato del resto quindi è vero che il film è costato circa 100 milioni e quindi non potrebbe dire ma perché sono soddisfatti di un risultato che non li ha neanche fatti rientrare nelle spese è qui che sta il punto loro avrebbero perso praticamente tutto se il film non fosse uscito se l'avessero dovuto tardare avrebbero perso tantissimo perché avrebbero potuto rifare la campagna di marketing invece in una situazione del genere riuscire a recuperare quasi tutto l'investimento di produzione per loro è una manna dal cielo assolutamente una manna dal cielo quindi in realtà quello che è successo li ha soddisfatti perché loro pensano adesso perché c'era l'emergenza sanitaria ma pensate se il film fosse andato nelle sale e poi l'avessero messo sulle plataforme di stream dopo non troppo tempo avrebbero incassato decisamente di più quindi io penso che sì il cinema cambierà ma allo stesso tempo non penso che le sale ci andranno a rimettere come tanti dicono perché perché ci saranno degli accordi ora la questa questo caso Universal MC dovrebbe far capire tante cose si è appena creato un precedente importante altre major ci penseranno due volte prima di fare una cosa del genere senza consultare le varie catene i cinema gli esercenti i consorzi e quello che volete per cui che cosa succederà ci saranno degli accordi forse la finestra verrà ridotta a fronte di una percentuale data magari a un certo ente un accordo con una catena per cui se acquisti quel film hai uno sconto su quella catena e cose del genere e secondo me piano piano arriveremo ad avere un momento in cui lo streaming e in generale il digital download saranno la colonna portante della rinascita dell'industria cinematografica dopo la risoluzione dell'emergenza sanitaria perché immaginatevi che si riduce la finestra e quindi le sale lavoreranno perché comunque molta gente fino vuole andare a vedere in sala si riduce la finestra arriva prima il download digitale poi il blu ray in modo che incassano e magari fanno una divisione in questo modo 75% le sale scusate 75% la major 20% i servizi on demand e un 5% è una cosa che dico io è un'ipotesi un 5% va a una catena di sale con cui si fa un accordo magari facendolo con più catene di sale facendolo anche con qualche consorzio qualche ente potrebbe andare così potrebbe essere questo il modo per salvare il cinema sotto ogni punto di vista dopo questa crisi nera che lo sta investendo è anche vero che un Tross World Tour va ad incassare di più messo online perché è un film che guardano le famiglie ok e tra l'altro è quello che dicevo il rapporto ragazzi quello è il rapporto perché far pagare 15,99 un film del genere perché se lo guarda una famiglia con 15,99 magari lo guardano 4 persone 4 persone in sala avrebbero speso negli Stati Uniti d'America facilmente tra i 45 e i 50 dollari perché i prezzi non sono quelli che ci sono sono molto più alti quindi se ci pensate senza contare il pop corn e quant'altro se ci pensate il prezzo per un film soprattutto dal genere è giusto e e quindi gli altri hanno incassato di meno film come Emma Bloodshot The Visible Man tutti insieme in totale avrebbero incassato un 60 milioni di dollari per cui non è stato un incasso altissimo ma visto quello che avrebbero perso se non fossero usciti in sala adesso vista la situazione è tutto guadagno che arriva alle major e che gli permette di sopravvivere ancora per un po' quindi secondo me ci avviamo prepotentemente verso un cambiamento che sarà graduale inizialmente faranno casino faranno confusione perché il sistema deve essere ancora approntato ma preparatevi perché quello che secondo me si sarebbe avverato nel giro di 15-20 anni si è anticipato di parecchio a causa di questa situazione di emergenza totale da un punto di vista anche economico quindi credo che potrebbe essere interessante vedere che cosa accadrà se gli MC effettivamente non programmavano più i fini di universa se trovavamo accordo comunque quegli MC hanno detto noi però un accordo lo troviamo tranquillamente quindi non è che hanno detto una minaccia hanno detto noi non stiamo minacciando stiamo dicendo che cosa succede se procedono su quella strada è una conseguenza che dovete mettere in conto questo è il senso del messaggio per cui trovo che sia una cosa estremamente interessante ragazzi è storico è un cambiamento positivo negativo solo il tempo potrà dircelo ma io vi chiedo di ragionare e di rendere conto che non necessariamente una cosa diversa debba essere negativa secondo me ne gioveranno tutti piattaformi streaming servizio a demand major e cinema e ricordatevi che la sala non morirà mai non l'ha ammazzata l'epideria di spagnola non l'ha ammazzata l'avventura di DVD l'avventura di videocassetta l'avventura di televisione niente ha mai ammazzato il cinema e il cinema sopravviverà sempre perché è un bisogno umano ok da quando esiste il cinema niente l'ha mai potuto buttare giù perché la magia della sala quello che ti offre la sala non te lo offre niente e non c'è nulla che la possa ammazzare per davvero ci sarà un tipo di fruizione differente magari sì ma la sala sarà sempre al centro di tutto perché il cinema nasce con l'esperienza prima delle salette ok e poi della sala attrezzata ma nasce come luogo di aggregazione e quello non lo cambierà mai nulla l'unica cosa che può cambiarlo temporaneamente è un cazzo di virus che ci tiene distanti come sta accadendo ma questo non lo ammazza lo rallenta lo ferisce ma la sala come la conosciamo tornerà ragazzi tornerà e io di questo ne sono sicuro ma voglio sapere il vostro pensiero scrivete un conto che sono cosa ne pensate voi un bacione io vi abbraccio grazie a tutti tanto va tanto va tanto bene e noi ci vediamo al prossimo bui vlog ciao a tutti